La gravidanza, in termine tecnico si dice, è una condizione in cui le visite e i controlli sono tempo dipendenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che non posso dire, no signora guardi, ritorni fra quattro mesi quando la pandemia in primavera sarà finita e quindi tutti gli ambulatori, i consultori sono aperti a controlli normali in gravidanza. Ci si accede con delle precauzioni che ogni ospedale ha messo a disposizione, ogni consultore ha messo a disposizione nel caso in cui gli screening per le anomalie cromosomiche, se volete farli, dovessero indicare l'opportunità di fare una miocentesi, una villocentesi, ecco se ci fossero dei sintomi da Covid, una positività da Covid, si preferisce comunque posticipare gli interventi invasivi, ma questo naturalmente interessa meno di una persona su 2000 oggi, quindi francamente c'è che ci sia la positività e la necessità di fare delle procedure invasive, è veramente molto raro. Quindi se siete in gravidanza il nostro programma di controlli in ospedale e in consultorio deve rimanere uguale e in effetti noi mettiamo come tutti gli ospedali a disposizione degli stessi ambulatori ostetici che avevamo prima di questa pandemia.